Fa ancora discutere la sentenza di assoluzione per i sei ragazzi accusati di aver stuprato una ragazza alla fortezza da basso di Firenze nel 2008. Per i giudici della Corte d'Appello, la giovane, all'epoca 23enne, denunciò il rapporto sessuale per rimuovere un suo discutibile momento di debolezza e fragilità. E sono proprio queste le motivazioni che hanno spinto la rete della conoscenza a lanciare la fotopetizione e nessuna scusa. Sulla pagina Facebook, nessuno escluso, si legge questo commento. Dopo la sentenza di fortezza sentiamo la necessità di prendere parola, non solo in solidarietà alla ragazza che è stata brutalmente umiliata, privata di un suo diritto perché non conforme, definita un soggetto fragile, promiscuo, bisessuale e quindi non credibile per i giudici, ma anche per riflettere collettivamente con chi è indignato, stanco e arrabbiato come noi. La rete della conoscenza vede dietro la decisione dei giudici una discriminazione. L'obiettivo, fanno sapere, è quello di mettere un punto ad una cultura violenta e sessista che giustifica uno stupro. Immediata la richiesta di programmi di educazione sessuale e alle differenze nelle scuole affinché si cresca consapevoli del proprio corpo, della propria sessualità e di quella degli altri, senza prevaricazione e violenza. Il loro timore è che questa sentenza diventi strumento per qualcuno per rappresentare la donna come soggetto debole, come vittima senza riflettere sul contesto socio-culturale in cui si vive. Così la palla passa al governo e alla messa in campo di politiche reali di welfare che favoriscano l'emancipazione economica e sociale di tutti. Nella conclusione si legge la preoccupazione per un pericoloso arretramento culturale, mentre moralismi, perbenismo e repressione fioriscono nel silenzio più totale. Grazie. Grazie.